ah si devo mettere questa ricordatevi di iscrivervi al mio canale attivate la campanella per non perdermi il video lasciate un like se il video vi è piaciuto a tutti ragazzi benvenuti nel mio canale benvenuti un nuovo video oggi come potete vedere anche da titolo siamo ritornati su pc welding simulator e siamo nel quinto episodio se non mi ricordo male oggi si continuano con gli aggiornamenti dei pc quindi commentate qua sotto con scritto l'aggiornamento che ci può stare dai quindi direi di iniziare subito ok accendo il pc intanto per vedere se hanno inviato qualcosa qualcuno cose varie acqua abbiamo dei componenti che probabilmente ci serviranno per aggiornare dei pc non mi ricordo bene dove eravamo rimasti ma vediamo questo non so perché l'ho lasciato qua portiamolo subito qua si è vero che mi avevo acquistato anche il secondo tavolo ora mi ricordo si perfetto ok qua abbiamo delle email a devo pagare la data e ma mi conviene si 16 giga di rama 16 giga di rama è è che dovrò acquistare alto boh ma io l'ho accetto mi acquisto già aspettate memoria non mi ricordo cosa machine titan xl 8 giga dove è andato qua questa questa si facciamo così e ora andiamo qua accetto e magari e magari mi scrivo e magari magari ma il punto terri però e fino a qua ci siamo direi timotti un torrent che nome è questo timotti timotti questo è 8 giga 8 giga e team group però e pulire anche non so se ho team group qua io se se lo faccio così ok perfetto siamo a posto e poi puliamo anche il pc dalla polvere ok puliamo un po' ok ok perfetto perfetto dovremmo essere a posto con la pulizia ok qua chiudiamo e no dove qua cabellaggio ok e colleghiamo tutti i cavi perfetto accendiamo ok perfetto ok e possiamo posizionarlo qua intanto questo lo mettiamo qua e consegniamo ok perfetto sono sono disponibili anche nuovi componenti ora perfetto devo andare ora qua upgrade cpu gu guilti c guilti guilti ah eccolo non l'avevo neanche visto e ok non vuole parti usate l'aggiornamento della cpu niente di che quindi facciamolo al volo ok install cpu quindi facciamo cose guilti vediamo cos'è guilti 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 dove è finito eccolo qua i7 6700 i7 6700 e questo ok mettiamo mettiamo la pasta termica questa così e ora installiamo il dissipatore che era intanto devo trovarlo qua questo facciamo il cabraggio devo pulirlo ovviamente il pc qua perché c'è un po' di polvere quindi puliamo mi sembra giusto anche ok ora chiudiamo qua facciamo il cabraggio e accendiamo vediamo se si accende perfetto possiamo spegnerelo e portiamo qua e mettiamo questo qua ci sono un po' di pc eh? però dai così perché mi ha dato quattro stelle però non so se andava bene tutto ok dai almeno siamo tornati su con i soldi e questo era appunto mac queen vediamo vediamo ah nuove parti perfetto questo cosa vuole ok vuole che puliamo e non usare parti usate perfetto niente di che diciamo sì quindi smontiamo qua vuole la singi foggi tx 980 gamer si è arrivata penso di sì ma non sono sicuro 980 gamer che dovrebbe essere questa qua e non vuole parti usate va bene r.bell ok dove è? ah vuole un i7 6700 anche lui perfetto forse conveniva prima pulire va bene puliamo ora dai vediamo forza ok ok perfetto e mettiamolo da parte anche questo andiamo con questo qua intanto andiamo qua e destra a questo a vuole che sostituito uniamo la scheda video e puliamo ok che scheda video ha la 1050 ok ok installa scheda video ok la metto cioè lì mi dice sostituire proviamo a vedere facciamo il cablaggio magari così funziona mi sa di no e quindi anche qua devo aggiornarla non solo sostituire va bene ah sì poi c'è questa che non so di agnosi real case beh vediamo qua cosa avevo scritta che non mi ricordo se avevo scritto qualcosa ah AMD Ryzen 5 current core 1500x ok rimuovi se giusto installa prendi questo mettiamo la pasta termica con il dissipatore vai così facciamo il cablaggio e vediamo ah no aspettate che vediamo perché real case vediamo se vuole qualcosa in particolare ma io direi che va bene così se volevo vedere se voleva magari qualche cavo ma penso che vada bene così ok ok perfetto così 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 e così ora posso montare questo monto questo e siamo a posto ok 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 un attimo ok e questo è quello se perfetto le alquanzi perfetto ora acquistiamo torneremo un po sotto ma facciamo così per vediamo 7 6.700 no se qua non c'è tanta fretta e questi due è no mi conviene allora cosi purtroppo perché hanno un po di fretta quindi spegniamo il pc dato che abbiamo acquistato tutto mai e poi andiamo qua qua il BlackBatterRG assieme a quello che non voleva niente solo rimozione virus quindi lo accontentiamo subito che non ci vuole molto vai vai perché se non serviva ok andiamo qua facciamo così 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 e così mettiamo la chiavetta che serve vai intanto c'è questo questo è blend a questo devo fare devo vedere un po con questo mi serve la chiavetta non posso acquistare neanche una seconda chiavetta perché non sono ancora arrivato al livello quindi devo solo aspettare qua ah beh intanto posso andare qua aspettate bom andiamo black 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 questo è stato un attimo bene vedo un attimo un attimo a posto ok posto mettiamo un altro qua intanto installiamo la chiavetta facciamo il cablaggio ok poi questo e qua mi serve ancora la chiavetta anche qua quindi questo sì così sto prima senza a smontare per vedere che componenti ci sono già mi dice quali servono me li scrivo e via cioè veniva questo e basta cose senza stare a smontare vedere i componenti allora cosa mi aveva detto questo world of world c'è questo minima è vero minima ok quindi se niente di che ha una 960 sempre blend j sto l'ho c'è il 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 ci c'è pioggia, no, modifica, ah, punto, co, punto, qui, ok, perfetto, poi, ah, sì, aspettate, oh, dopo vediamo, la GPU, quindi, abbiamo detto, che ci serve, è la Nvidia G4, GTX 960, Nvidia, G4, no, come l'ho scritto, un po', sì, GTX 960, andiamo su shop qua, dov'è questo, 960, e qual'è quello giusto, uno a caso va bene qua, forse, quella che costa il meno, non so, sì, dai, cioè, sono buoni tutti, diciamo, cioè, stavo vedendo perché, questo costa 10 euro in più, dollari, veramente, dovrei vedere se si può cambiare euro qua, i dollari in euro, magari che sarebbe meglio, non so se si può da qua, vediamo, qua no, 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 qua non si può, magari c'è un menu nascosto, dovrò vedere, qua, niente, 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 ok, sì, allora, 1800, ah, ok, no, ah, ecco qua, la frequenza è un po' inferiore, questa, poi, tutto il resto dovrebbe essere uguale, sì, appunto, sì, è la frequenza un po' inferiore, ma, niente di che, quindi io l'acquisterei, ok, magari, modifichiamo qua, scrivendo, msi, invece di invidia, msi, gaming, le, 100, m, e, ok, perfetto, poi qua, cosa c'è, aspettate, però, il budget 300, beh, ci stiamo pienamente nel budget, diciamo, e, ok, msi, nuovi componenti, quindi perfetto, allora, tu, intanto, ti metto da parte, tipo, qua, ti metto, sì, prendiamo questo, e mettiamo qua, qui, allora, installo la chiavetta, ah, sì, cosa dovevo modificare, vero, come si chiama questo, blackpatter, ah, ma forse non avevo scritto, no, 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 no qua facciamo che ora è andato questo c'è questo martelli punto termi vediamo no punto gemmi ma punto termi questo shintan e plastica bianca quindi togliamo questo ok che gioco flight simulator specifica e raccomandante però dove è andato flight ok questo ok devo solo 2 4 6 8 quindi altri tre banchi vediamo che ram monta non so andiamo la ram che monta è la shintan 2 giga 2133 megahertz ok quindi andiamo qua questo si andiamo qua facciamo più ma qui punto vanessa chiocciola critica system systems punto mail e come testo come si chiama come si chiama megahertz megahertz la ram poi c'è anche c'è anche niente non penso almeno come si chiama come si chiama come si chiama ok ma devo mettere ma devo mettere ah sì devo mettere questa martelli punto tre cavi plastica bianca plastica bianca se non mi ricordo male se dovrei averli vabbè ci sono già messi quasi tutti ma quelli che non sono magari li metto così almeno va meglio niente ok allora vabbè niente se proprio questi non so vediamo cabellaggio mettiamo questi niente allora vabbè ci ho provato ma niente ok allora accendiamo intanto che si accende metto questo e andiamo ok posizioniamolo qua questo mettiamo qua ok perfetto e ora qua penso che sia sì r.mecqueen apro sia questo e sia questo no allora cosa mi dice qua vuole che pulisco e un aggiornamento e non vuoi parti usate ok questo cos'è prendo prendo ah ok macqueen va bene da 980 gamer comunque devo mettere no questo qua la 980 gamer questa ah no allora vediamo no questo ok è quello di prima 980 gamer 980 gaming 4g e facciamo vediamo se magari 980 980 gaming questa no msi si c4 gtx 980 gtx no gamer ma gaming 4g e perfetto scusate solo un attimo che voglio vedere ok perfetto se si è giusto giusto sì dov'è andato qua ok e ora basta così qua quindi questo posso tornare a portare qua e qui porto questo r punto bell non so cosa chiede allora non pulire non utilizzare parti usate e aggiornamento cpu bon pulire ok già fatto ah sì è vero perché sì sì ho capito qual è ok quindi togliamo questo e mettiamo questo ok così perfetto facciamo capraggio ok anche qua perfetto accendiamo intanto che si accende metto questo lì magari posso anche spostarli qua magari meglio di lasciare spazze ai nuovi lì ecco il punto bello comunque che è questo se cancello ok così ho una in meno perfetto nuove parti sempre ok l'ultimo che è questo distingue your way dov'è eccolo qua la 1050 ti mi dice ah è vero che non è la 1050 ora vediamo dobbiamo tornare qua 1050 la dfl radio un r9 280 gr8 3g ok vediamo almeno se accetta non so se vuole usato ma almeno se l'accetta come modello magari sarebbe un segno perfetto quindi mi acquisto la r9 280 gr8 3g shop r9 però qua così r9 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 280 gr8 3g questa lanciando così è ok posso lasciare questo colore qua ok metto qua non so se hanno fretta questo undici giorni volendo potrebbe anche arrivare sì quelli che hanno scritto i mani hanno fretta no no e no quindi volendo potrei fare così così risparmio nella spedizione che spegniamo il pc che spegniamo le luci ma se scusate che ok perfetto e andiamo ok perfetto scusate un attimo vabbè no dove è andato cosi power andiamo ok allora ok quindi vuole cpu quindi un aggiornamento cpu cose cose cpu P.Fizz, Gerard, Chiocciola Kubrick, Brevin.net E ora andiamo qua, cpu, vediamo che cpu monta questo pc, c'è quello che vuole che aggiorni, cpu è un i5-6600, con i5, i5-6600, i5-6700, quindi andiamo su shop, e dove è andato, i5-6700, dove è andato, perchè non esiste, no non posso, fissà, non posso ancora, ora, i5-6700, 6700k, cioè sennò dovrei cambiare sia processore sia scheda madre, e verrebbe un budget troppo secondo me, tipo, quanto costa la AMD? 1.400, 170k, più, 170k, 150k, beh, non verrebbe troppo. Quindi, potremmo anche fare così, ma aspettate, poi ci sono i 16 giga, quindi, 8 giga, poi, 80k, beh, dai, non verrebbe troppo dal budget, no? la scheda madre, abbiamo detto che facciamo, la, questa, moltoni, a, 320m, m, track, plus, sì, giusto. ok, cpu, poi, 1400k, sì, ok, cpu, amd, ryzen, 5, 1.400k, poi, abbiamo un altro, tipo, chi potrebbe essere, cpu, poi, cosa chiede? 1.800k, ah, la vam,합, range, Dieses, team group, default dark, silver, 8 giga, 2666, qui, memory,212, coffee, team group, Sì, 8 giga, ok, perfetto, ok, andiamo, e quindi, in gruppo, così mi siena, sì, in gruppo di force, eforce, dark, silver, 8 giga, 2666 megahertz, lo scriviamo bene, magari, sì, ok, così, no, sì, giusto, poi andiamo qua su, torniamo nell'email, non dovrebbe chiederci molto altro, no? Ah sì, plastica nera, ok, quindi, cavi, cavi, plastica nera, ok. Ok, poi, andiamo su, accettiamo qua, andiamo qua, qui accetto e basta, perché non so, c'è, sì, devo testare per vedere che componenti che servono, qua, ok, ah, dal disc, più al disc ha, e qua, anche qua, devo aspettare, quindi accetto e basta, e, ok, perfetto, ok, sto vedendo un po' di lag, non so, questo lo metto qua, questo lo metto qua, e siamo a posto, allora, questo è Brucce Bank F, sta, cosa chiede, ah, ogni 5, 6,400 e 8 giga, ah, ok, ho capito chi è, eh, sì, quindi chiudo questo, sostituisco il processore, install cpu, 6,700, se non mi ricordo male, mi ricordo male, invece, 6,400, ah, ok, non è ancora arrivato, forse deve arrivare, ok, quindi cambio, ok, questo, johnson, 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 buone, forse non è, quale, scheda video e ram, perché io qua, ah, no, giusto, 970 abbiamo in 4G, vediamo, se esiste, 970 non c'è, quindi via, cambiamo, questo, questo, DS, 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 questo, DFL, Radeon, R9, R80, G8, DFL, niente, e anche questo cambio, perché deve ancora arrivare, ok, qua, ehm, Distinct, dovrei, cosa da fare, Distinct, eh, vediamo, qua, ecco qua, ma niente di speciale, ok, quindi, va bene, facciamo il cambriaggio, e siamo a posto con questo, install, no, aspettate, questo prima, facciamo così, così, e andiamo, ok, così, e così, vai, qua, lo metto qua, questo, risposto, anche se ora, ok, fino a DS qua, aspettate che devo già mettere, quindi, cosa, vai, qua, quindi, Distinct, Connect, ok, quindi, guadagniamo un po' di soldi, e, Distinct, Distinct, che non è questo, appunto, non è questo, 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 è questo, vai, così, ah, le specifiche, eh, qui, cosa serviva, blend, 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 eh, dove è andato, blend, ecco, ah, la 960 gaming, che non c'è ancora, che non c'è ancora, va bene, quindi, facciamo così, qui, quindi, non sarà arrivata neanche qua, penso, McQueen, dove è andato, McQueen, ecco, si intenta, 2 giga, 2.133, cioè, una potrei anche mettere, volendo, ma aspettate, ho letto male io, ah, shintain, ah, no, no, ok, ok, e questa, allora, R.MacQueen, R, 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 la MSI, GTX, 980, gaming, 4G, LE, che non è qua, ok, quindi niente questi, chiudiamo tutto, qua, un'email, ah, ok, spengo il pc, ok, andiamo qua, spegniamo le luci, e passiamo alla prossima giornata, perfetto, qua sono arrivate due nuovi pc, ok, andiamo qua, nel pc, che lo accendo, vabbè, intanto portiamo questi due pc qua, ok, perfetto, i miei, i miei, ah, ok, sì, perché non c'era spazio, e questo è un armadio, a livello 6, ok, dovrò ancora aspettare, ok, non vuole parti usate, vuole, che sostituisco, PSU, e scheda, video, cioè, quindi, PSU, PSU, è la Schimp Power King 300, il Schimp, ok, no, Screen Power King 300, questo, poi, scheda video, eh, dov'è andata la scheda video, la 980 gaming 4 GLE, no, devo andare però, qua, non ho tanta, così, perché attore, ah, mi sono dimenticato di acquistare, ah, ok, va bene, eh, va bene, no, di me, mi serve, ok, andiamo su, qua, mi serve, per hand, debbi sul quattro, con la tomas, punto, greg, www.incorporating.org e ora qua cosa a posto, posso mettere, ah si qua devo mettere, la PSU che è 5, Power King 300 e la GPU che è 3, la MSI, G4, GTX 980, QGAMING 4G array, oddio, no aspetta, no non ci sta, ma cosa, allora qua funziona, attenzione, ah no, non capisco, non posso aggiornarmi la chat, aspettate, dai che c'è, dai che ci sono, no, ma perchè, no aspettate, c'è il mouse che fa quello che vuole, dai, dai che ci sono, dai, 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 ma perchè, dai, dai che c'è, c'è, non posso aspettate, se io vado qua, no qua funziona, circa, no, no, va solo in un punto, penso che lo avrò, via via, a me non ci sono il PC, comunque va bene, dai, cerca, però non ciò, può funzionare bene, si, Boh, non lo so. Quindi, Ovan, dove è rimasto? Ah, si, PSU, GPU? E qua, Plastico a neve e hard disk. Quindi, facciamo così qua. Forme al minuto. Fiocciola. Forme. Deve opme. Si. Punto co. Ok. Questo, lo faccio così. Ah, ok, Ovan funziona, perfetto. Non so cosa per fare. Perfetto, perfetto. Ok. No. Così. Ehm... No, questo. Plastica nera. Non vuole parti usate. E... Sostituire hard disk. Quindi, andiamo prima a sostituire hard disk quasi. A vedere. Ah, non so quale dei due. Però è vero. Quindi... Perchè non so se intendo hard disk anche per ssd dicono hard disk. Quindi, per sicurezza vedo quando me lo portano. Comunque. Ora, metto intanto cavi che sono plastica. Nera. Qua. Ma perchè plastice? Cosa vuol dire plastice? Ehm... Ah si, passiamo al prossimo qua. Qua. Qua devo vedere. Qua... Ehm... Ehm... punto tv vabbè poi qua devo mettere verde pulire non usare parti usate ok beh quindi facciamo cpu quindi se abbiamo qua una AMD Ryzen 5 quad core 1400 mettiamo non posso metterla 1400 mettiamola a 1500 x quindi cpu due punti AMD Ryzen 5 quad core 1500 x ok poi cpu fatto perfetto la la ram deve essere ok team group t fall down 4 giga tre cose devono essere quindi team group vediamo team group t fall down 4 giga 2400 quindi dai 2.000 ai 2.500 dai 4 giga ai 4 giga ecco qua team group team group t fall down tag server 4 giga 2400 mega perfetto e anche la run fatto pulire dalla polvere e ok quindi il mail ma va anche fuori dallo schermo ok non siamo perdere facciamo printa di non aver visto niente ok perfetto quindi io devo dire che termino qua nel gioco il gioco per il momento quindi spero che questo video vi sia piaciuto cosa si apre qua caso cose non posso anche saltare va bene sì quindi spero che questo vi vi sia piaciuto quindi iscrivetevi commentate lasciate un bel like condividete sostentemente ancora e alla prossima ciao ciao